Belsito Hotel Le Due Turri a mano calzati a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari www.belsitohoteldueturri.it Il comune ordina alle ferrovie la rimozione delle traversine velenose di Borgoferrovia entro 10 giorni. La relazione effettuata sul posto da ARPAC e tecnici del settore ambiente del comune dopo due sopralluoghi sarà trasmessa anche alla procura. I tecnici del comune di Avellino dopo aver stilato un verbale hanno invitato i responsabili delle ferrovie dello Stato impegnati nella realizzazione della nuova tratta per mercato San Severino ad accelerare il trasporto del carico di vecchie traversine verso la discarica. Intanto dopo la rimozione saranno effettuati monitoraggi dell'area del sottosuolo e delle falde acquifere per verificare un eventuale inquinamento della zona. Le traversine, trattate con sostanze nocive, giacciono sul piazzale della ferrovia ma a ridosso delle abitazioni del borgo. L'area interessata dalla presenza delle traversine sarà anche bonificata. A lanciare l'allarme mesi fa sono stati gli abitanti del posto e l'associazione lotta per la vita. Le traversine da giugno erano state depositate senza alcuna protezione, poi vennero coperte dai teli dopo alcune denunce dei cittadini del posto. Grazie per la visione!